e non fare il pesce lesso da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporto un creatore ed inserisci chiuderone dagli e bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo velocissimo video io sono chiuder e ragazzi le sfide ultimo pacchetto di sfide cameo versus chic ci chiede una delle sfide di pescare in luoghi dove c'è il divieto di pesca e di recuperare un oggetto è semplicissimo ragazzi il diritto di pesca e questo cartello come avrete ben capito e infatti pescando semplicemente un pesce un'arma lui ci dà la missione una di tre per trovare gli altri due cartelli non dovete far altro che andare vicino alle due sorgenti mancanti di pantano quindi questa e poi quell'altra insomma le tre sorgenti ognuna ha un cartello per pescare molto semplice molto fast 50 mila punti esperienza io vi ringrazio per aver guardato questo video un bel pollicione in su iscrivetevi al canale io sono in live sulla piattaforma viola ciao